Buongiorno amici, buongiorno a tutti, sono Mauro di Orti di Mauro, aggiornamento dopo i primi sei mesi, vi faccio vedere proprio qualcosa che vi è al volo, perché c'è molto da fare e voglio fare un video breve giusto per ringraziarvi fino oggi e per tutte le visual che mi avete dato e soprattutto per il fatto che volevo fare questo speciale primo aprile dopo sei mesi. Qui c'è molto da fare ancora, dopo il crollo della recensione di tutto quanto che c'è stato per causa della neve sono rimasto parecchio impegnato su questa zona che mi dà ancora molto da fare, come potete vedere, ecco qua, vedete? In queste riprese vi faccio vedere le montagne, come potete vedere, di materiale da cipare. Apparentemente sembra una desertificazione, ma non lo è perché erano tutti noccioli arrivati a cinque e sei metri di altezza, quindi alberi inutilizzabili e soprattutto inutili per come erano messi, mentre invece in questo modo ho fatto tutti i ceppi, ho lasciato le ceppaie, adesso ci saranno chiaramente le riprese, come quel sambuco che vedete qui adesso sta ricacciando, là ne ho lasciato un altro che ricaccia anche lui, poi la recensione si sta sistemando, fino a qua è fatta e da qui in poi è ancora da sistemare, poi mi devo riportare a casa tutto questo, questo crollo che c'è stato, questa era la siepe, la vecchia siepe. Ora passiamo dentro, adesso vi sembra di ripercorrere quella famosa passeggiate che avevo fatto salendo nel primo video, ci sono passati esattamente sei mesi, andiamo dentro dai. Ci siamo, ora l'ingresso si presenta in questo modo, devo ancora fare tutta questa sistemazione, questa fino a sulla, i siepi sono ancora qui, vedete come erano, queste sono già basse rispetto alle altre, le altre che sono crollate erano quasi cinque metri di roba. Ho qui un raggruppamento di vecchie macerie e sassi che trovo in giro, quindi devo portare tutti quei dentro di vidoli, fare smaltirli, e questo è il famoso ingresso che adesso si presenta in questo modo. Andiamo a vedere cosa sto combinando, partendo dal lato sinistro della cascina. Eccoci qua. dunque, arrivano all'ingresso, per poco cominceranno a spuntare, spero, i bui di cose che sono state piantate, questa è la prima piana, diciamo quella a sud, sul sud-ovest, guardate le montagne, spero si veda, eccola, e dove avete quel percorso non è l'acqua, quelli sono i miei cani che hanno trovato il sistema per andare su una lorto a disturbare. La cascina si presenta così attualmente, lì ci sono le mie piante, zona del lavatoio, andiamo avanti, lì sto lavorando per recupero acque, lavatoio, filtraggi, cose del genere. Qui abbiamo i cassoni con le insalate, la patata, le cipolle, il peperoncino è morto, qui sembra che qualcosa funzioni, qua c'è il casellino, quella legna, la scaletta, ecco qua, guardate, questa è zona macerie che devo smaltellare, perché i vari ritrovamenti che faccio sotto terra o comunque in giro, tegole cambiate, questa è una montagna di roba da cipare, questa è tutta legna da tirare in secco, andiamo di qua, adesso faccio una pausa, vi faccio vedere la parte sotto. Ok, questa è la parte come si presenta ancora oggi il bosco, per fortuna sta rifiorendo tutto il verde così ne vedremo più, tutta quella rotta a maglia, lì ci sono baracche crollate, cassoni, cose, vecchi cani da smaltire, questa cosa si è ripresa, i sentieri che vedete chiaramente sono tutti i percorsi che faccio o io, vedete che scende, gli passa così, gli sale, va su, a quelli che faccio io o i cani. Andiamo nella parte dietro la casa, eccoci qua, questa parte va ancora sistemata, quando inizierò quella devo iniziare a finirla, qui c'è stato uno schianto, quelle piante lì sono ancora da togliere perché da solo non posso farle, tutto questo marciuno qui poi viene ripulito, andiamo a vedere di qua, vedete, c'è una ricrescita di verde incredibile, sopra là è la parte dove abbiamo l'orto, tutte queste montagne di cose da cippare, qua c'è la legnaia da sistemare, facciamo un salto dentro al volo, qua sto lavorando per la legna, per la cascina appunto, il fienile, il deposito diciamo via, l'ex fienile, questo è ancora tutto da sistemare, andiamo avanti, da fare ce n'è tanto, qui finiamo ancora dalla parte del ramo prima, vedete dove c'è le patate, quello recintato lì in fondo è il campo delle patate, tutta questa roba è montagna, roba da portare via e roba da macinare, poi c'è tutto con gli schianti da sistemare, e consolidare questa riva con delle colture che ho in parte già pensato, ma che vedremo, vedete queste qui poi devo fermarli, questi qui sono quei sambuchi che si riprendono, ma mi sarebbe troppo, o tengo basso o attaccato alla gronda così, non va assolutamente bene, vedete che poi gira, troppo va a finire sul tetto, e io ho il tetto sempre pieno di foglie, andiamo a fare una panoramica sul giardino, ecco vedete vi faccio vedere come si presenta il bosco, oggi è una giornata abbastanza molto secca, diciamo che in questi giorni sta patendo parecchio, quando è più umido diventa molto molto più verde, è molto più fiorito, ok, allora, tutto con la roba è ancora rottame da smaltire, dietro c'è legna, poi ancora ferro, vedete c'è tutta quel maciame lì da smaltire, pazienza si farà, e qui andiamo a vedere al volo una vista sull'orto, vedete, aspettate che voglio scavalchiare senza aprire il deterrente per la mia piccolina, piccolina, ecco qua, qua siamo nella parte sopra, in questo momento sono le nove e mezza, si presenta così il sole da quella parte lì, quindi in faccia alla cascina, ho queste montagne di smaltimenti ancora da fare, vedete quanta ne ho accumulata in sei mesi, poi ci sarà ancora questa vecchia legnaia canile da smaltire, però le laniere sono tutte belle recuperabili, qua ho, andiamo sopra le patate, vedete la riva delle patate come scende dolce, questo era un terrazzamento, eccoci qua, questa, e poi di qui scendiamo, in una zona ancora che io non ho ancora colonizzato, ma che mi toccherà fare, perché sarebbe praticamente la pianella che proseguiva fino qui in fondo, quella dove c'è le patate adesso, poi ho tutte quelle siepi da sistemare, rottami, rottami, il bosco va oltre, andiamo su ancora una quindicina di metri, più o meno 15-20 metri, quindi oltre, quindi mi toccherà tenere anche in ordine tutta quella parte lì, e andare a fare le dovute portature, pulizie varie, vedete qua, poi si creano queste voragini, quando c'è troppo di lavamento, proprio perché non è stato curato per troppi anni, guardate quelle piante ricurve, così, la metà sono schianti, e non sono tagli da famoso disboscamento, quindi, quando le piante sono come in quel modo lì, vedete, quelle adesso saranno anche difficili da gestire, perché purtroppo sono cadute, quindi quando sono cadute sono più pericolose di quando sono ancora in piedi, qui vediamo la cascina da sopra, ve la faccio vedere da qua, vedete, quando le piante erano attaccate a casa succedevano quelle cose lì, c'era il tetto pieno di foglie, adesso quella tettoia poi viene rifatta, sistemata, comunque è regolarmente accatastrata, quindi è, ed è anche stabile, gli dico che è anche solida, questo è il nostro acero gigante sul cancello, direi che abbiamo finito la passeggiata, torniamo giù un attimo. Vedi amici, abbiamo finito il giro veloce di questa piccola parte, non vi ho fatto vedere la parte di sotto, perché comunque è ancora tale quale come la fianza è peggiorata, e invece non vi ho fatto vedere il bosco dei castagni, che abbiamo visto solo una volta con la neve, settimana prossima andrò a farmi una passeggiata là, vi faccio un video speciale anche del bosco dove c'è i castagni, per farvi vedere appunto anche lì tutte le piante che avrò da sistemare, da portare, da mettere a posto, dove sei arrivata a te conciata così, come hai fatto sporcarti? Come hai fatto sporcarti tutto? Per farvi vedere che sei coccolosa anche, quante sei coccolosa? Stamattina vi ho trovato una zecchetta qua sulla capoccia, infatti mi dà fastidio, poverina, c'è il vernoccolo qua, dopo controllo. Allora, abbiamo fatto il giro, la situazione è, come potete vedere, dopo sei mesi è migliorata, ma c'è ancora tanto da fare, no? Ok? Quindi molto da fare, molto lavoro in salita, in salita perché è in salita la proprietà, in salita perché c'è molto, veramente molto da fare. Con lei ho un buon rapporto, si sta avvicinando piano piano da sola, all'aperto si comporta in un modo, è al chiuso completamente diverso, è disposta anche a sanitarmi sul letto. Poi, Iba sta bene, non ci sono particolari problemi, non tenta più di scappare, non c'è le sue cose anche lei, i suoi giri, i punti dove si ferma, a curiosare, a farlo. Avete visto che c'è una montagna di cippatura da fare, adesso il cippatore che doveva arrivarmi, di quel ragazzo che me lo regalava, comunque bisogna trovare il sistema per averlo da via Reggio, perché lui non può spostarsi da una regione all'altra, diventa un casino, non so quando e come arriverà, vedremo. Nel frattempo comunque io ne ho adocchiato uno, comunque il nuovo, di patta, di trinca, che mi serve, perché è semiprofessionale, comunque farebbe ancora meglio quel lavoro che devo fare, il prossimo obiettivo per me è quello, probabilmente faccio anche un link dedicato, perché ho visto che tanti di voi hanno fatto comunque dei versamenti liberi, cioè sul link che c'è sul canale, lì ecco, e che altro non tanto perché io comunque lo devo prendere, prima o poi ci arrivo, anche devo andare da mio nuovo padre, non sono potuto andarci, perché fuori in Regione anche lui mi aveva fatto la busta per Natale, tipo, siamo già a Marzo, la busta è ancora di Natale, quindi tutti quegli sforzi lì e quegli risparmi che io riesco a fare, li sto indirizzando in quel canale lì, quindi nell'avere un cipatore serio. Poi, ho visto che tanti di voi hanno fatto i versamenti liberi, se qualcuno di voi vuole dire vabbè no, però mi piace di più l'idea di avere contribuito per, allora c'è, farò l'obiettivo, diciamo, come la lista nozze, no? Aspetta, adesso mi devo sposare con la cascina, no, lo dico per ridere, veramente, cioè, E.A. Io comunque ci devo arrivare e lo uso anche io come salvadanaio, quindi alcuni di quei versamenti che si vedranno sicuramente saranno miei, o delle mie figlie, perché io faccio transitare dal PayPay di mia figlia perché non ti puoi autofinanziare la raccolta, Avremmo già spiegato questo meccanismo. Però niente di che, da fare ce n'è parecchio, non mi spaventa, la casa, per il momento, era ancora del tutto campale, però io mi ci sono aggattato piuttosto bene, certo, non ho tutta la voglia di fare tutta la vita così in un pseudo camper, no? Certo, forse in un camper dove ho qualche comodità in più anche, la doccia funziona, l'acqua calda ce l'ho, non ho una cucina seria, purtroppo, non ho ancora un bel lavandino dove lavare i piatti, sto lavandomene ancora in una bacinella come in campeggio, ecco, però, questa cosa non mi complica le cose, io dalla mia parte c'ho il tempo, il tempo del mio alleato, e adesso voglio dire, quello che mi dà giocare la mattina quando mi alzo e guardo fuori dalla finestra, a parte il fatto che si sta rinfoltendo ancora il busco mi piaceva a me il bello verde e il fatto che non ci può arrivare lì uno bussare al cancello suonare, diceva, sentite, però adesso noi vendiamo e vogliamo 30 mila euro 30k era la richiesta che avevano fatto del posto della stessa commenti a parte oggi qui non può succedere per fortuna e grazie a voi quindi grazie a voi dopo 6 mesi quello che ho fatto fino adesso ve lo ho fatto vedere veramente molto volentieri perché so che tanti di voi seguono e vogliono vedere appunto questi sviluppi nei video si può far vedere il pezzo per volta quei 20, 30, 40, 50 minuti poi dopo prendi l'idea fino a un certo punto invece così nella camminata si è guardato cioè vabbè c'è ancora tanto disordine sta via col fatto di non avere per esempio adesso il mezzo per spostarmi e quindi non poter caricare le macerie per portare via quella roba che deve andare via dentro ce n'è altre che sopra ce n'è altre che deve andare via ecco tutte queste cose purtroppo non le posso fare in questo momento ma non è un problema non è un problema perché ripeto il tempo è il mio alleato io pian pianino lo farò lascerò questo posto in ordine fino all'ultimo giorno che potrò rifiedervi e rimanere qui insieme nei cani e le mie bestie e la mia natura è una scelta che ho fatto io è una vita che mi sono scelto quindi auguro a voi se volete fare questa cosa di farla il prima possibile farò io il primo se uno di voi inizia a fare una cosa del genere ad aiutarvi perché come voi avete aiutato me io mi sento comunque in qualche modo in dovere di aiutare voi per il momento riesco a farlo solo in questo modo facendo dei video e facendovi vedere che una vita alternativa è possibile più avanti farò dei video anche più brevi speciali per farvi vedere come sta funzionando l'impianto adesso quando viene la Federica lo facciamo perché lei mi riprende io vi spiego meglio come funziona il mio pannello fotovoltaico l'impianto della casetta che va molto bene ho fatto un pannellino con le prese del cdc per attaccare 12 volte per il disco esterno per il pc per l'usb ho fatto un po' delle diavolerie del genere dove magari prefabbricati costavano 25 euro io con 6 euro ho fatto tutto cioè cose del genere qui c'è un modo anche per per vivere con poco veramente ve lo assicuro vi ringrazio se mi avete seguito fino adesso contestatori a parte mettete il pollice alzato se vi è piaciuto il pollice abbassato naturalmente quello tra gli altri e Mauro vi saluta questo suono di questa campana dovrebbe dire che suono forse le 11 non so adesso vado a vedere io vi saluto vi auguro buona giornata ciao a tutti grazie